iniziamo dalla 11 dove ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa in A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzano e Aglio in direzione Bologna in Filippilico denuscita alla Strassigna provenendo da Firenze rallentamenti tra Firenze Scandicci e la Strassigna in entrambe le direzioni a Firenze per quanto concerne la tramvia iniziati i lavori notturni per gli impianti semaforici in Viale Fratelli Rosselli e Piazzale di Porta al Prato fino al 24 novembre in orario 21.6 saranno in vigore restringimenti di carreggiata Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e buon viaggio Grazie a tutti